La vita della popolazione e poi c'è la storia della filosofia, la storia delle religioni, la storia dei costumi, la storia della cucina, della medicina, tutte queste messe insieme fanno parte della storia. Quindi è tutto ciò che riguarda la vita di un popolo. Mi voglio limitare solamente a una caratteristica particolare, però me la devo segnare perché c'è scritto nella descrizione del distempo del 1700. E dice, la terra di Filitto in piano con le sue anguste vie, secondo l'uso degli antichi per maggiore sua fortezza e difesa dai cittadini nel caso vi entrassero i nemici, si entrava per tre porte. Doveva esserci anche la quarta, dice De Stefano. De Stefano è stato pubblicato quando è morto, nel 1781. Ho detto proprio a Maria Angela prima che sei volto a Napoli a Santa Chiara. Ero originario di Aquara, un agostiniano molto colto, autore di tre volumi, di cui ho tratto proprio per quanto riguarda Filitto. Ogni paese viene descritto con i discorsi, i discorsi su Filitto. E quindi questo pezzo che adesso vi leggerò giusto un minuto riguarda proprio Filitto. Quindi ci doveva essere anche una quarta, dice, verso il fiume, dice la quarta porta, nel luogo detto il colatore. Come tradizione, ma ora si entra solamente per due che in tele esistono. Da torri laterali munite, quindi munite da torri laterali con apertura di sopra per buttarvi delle pietre, dell'acqua bollente ed altro per loro difesa. Ma oggi che è in uso il cannone, 1781, quindi la Golubrina, diciamo così, e le bombarde, a poco o niente gioverebbero questi ripari. Le torri che sono nei muri hanno pertucci rotondi al di fuori, visolunghi e grandi al di dentro. Balestrieri chiamati da Monsignor Francesco Patricio, quindi si rifà una fonte pure lui, appartenenti a una città libera, nei quali stavano anche situate delle macchine dette surpioni, a guisa di balestre, dalle quali si servivano per lanciare tanti pietre, ma non erano di gran portata e ferivano senza che si scoprissero quanti si avvicinassero alle muri. Antichissimo il castello, forse dagli enotri, edificato, è sito su un'eminenza di monde che alla parte del fiume è alta e inaccessibili i rupi, che inespugnabile lo rendevano. A oriente è una sua rocca, ossia il palazzo baronale, con una grande e alta torre rotonda di mirabile struttura. Poi si parlò ancora delle difese dei merli, e in più c'è una descrizione per quanto riguarda la posizione. L'università di Ferit è ricca di rendite, perché possiede bandite, ossia difesi e boschi di ghiande. Il suo vastissimo territorio è fertile, di grani, di altri biati, abbondanti e generosi vini, di castagne, di ciriegi, di ogni sorta di frutta e di olio. Dagli orni, l'orniello, si raccoglie abbondante manna. Vi sono greggi di pecore, di vacche, altri animali, onde abbondono il miele e la cera. La cera, scasseggia l'acqua, presa in una fontana vicino al fiume, per essere parte di quello in tempo di estate, è cattiva, perché imbevuta dai lini, che nello stesso fiume si curano, sebbene nel detto luogo il casale dovrebbe essere la parte peneggiante prima di arrivare a Ferit, vi è acqua assai preggevole, ma alquanda lontana. L'aria non è cattiva, sebbene non delle squisite. Nell'ultimo contagio pestilenziale del 1656 pochissima gente vi restò, e tutti i mitovi, come si note nei libri parrocchiali di questo tempo. Poi dice l'ultimo barone di questa terra fu Geronimo Carafe, eccetera. Tra il 1763 e il 1764, quindi diciamo circa 4-25 anni prima della Repubblica Partianopea, quella che diciamo adesso, il 99, ci fu in tutto il regno di Napoli una terribile carestia. Nel Cilento specialmente cominciò a scarseggiare ogni sorta di frutta. Sembrava che l'aria e la terra fossero state maledette. I provvedimenti del governo non riuscivano a imbedire la speculazione e l'incetta di grano. Si incominciò a morire di pura fama. Vi era chi a settimana non vedeva neppure il pane, chi a mesi non cibandosi altre che di erbe cotte, per lo più senza aglio e senza sal. I parrucci furono impegnati intensamente a distribuire l'estrema unzione anche nelle strade. Tante era la moria, la mancanza di grano, sconvolse improvvisamente il corso ordinario delle cose, riportando per lo spaggio di un anno la metifica atmosfera di paura, di anarchia, di morte che pone al di là di qualunque collocazione storica la vita dell'uomo. In Salerno sono morti tanti, che venne nuovo ordine che se ogni giorno ne fossero morte diversi, con timore di infezione, i cadaveri dei metesimi fossero bruciati. Un miglio distante dalle rispettive terre e che le genere poi possono sempre litigare.